oggi parliamo di prodotti finiti ciao buongiorno bentornati nel mio canale e bentornata anche a me perché è un po' che manco perché siamo stati in quarantena i bambini hanno avuto il virus purtroppo però niente di grave adesso siamo guariti cioè sono guariti sono tornati all'asilo quindi io mi posso dedicare ancora al mio canale a voi che mi avete scritto in tante sia su instagram che qua sul canale mi avete chiesto che fine avessi fatto e niente volevo dire che io instagram ce l'ho ma non lo utilizzo perché non mi piace tantissimo cioè non sono portata per quel genere di social quindi io quello lo utilizzo solo per avere un indirizzo dove voi potete scrivermi anche solo per salutarmi così lo tengo aperto perché io avevo cominciato ad utilizzarlo ma poi non mi sento mio agio ho provato più volte poi vabbè magari un giorno riproverò ancora comunque ragazzi oggi video dai finiti ho un po' di cosine da un po' di giorni però io non ho fatto in tempo a girare il video prima ma partiamo ho un bel sacchettone e partiamo subito dalla lavatrice ho finito un po' di cose alcune cose le avete già viste sicuramente perché mi segue da tempo le avete già viste tante volte però ci sono tantissime nuove iscritte il canale continua a crescere grazie e quindi faccio vedere anche le cose che magari alcune hanno già visto mille volte però vabbè rientrano anche nei miei preferiti questi finiti comunque inizio da lei non mi soffermo più di tanto perché è super gettonata anche in rete la usano praticamente tutte le ragazze quelle che fanno i video della mia stessa tipologia ma anche su instagram cioè comunque a prescindere da quello io una vita che la uso mi trovo bene e non uso taroccate uso solo l'originale perché secondo me non c'è paragone poi ho finito sempre per la lavatrice scusate mi sposto un po così forse la luce un po migliore sempre per la lavatrice il mio solito super detersivo preferito che ha perso anche un pochino anche qua non mi soffermo più di tanto perché ne ho parlato tantissimo è buonissimo è uno dei miei preferiti anche se ho provato dei prodotti nuovi ultimamente presto ve ne parlerò che mi hanno veramente stupito non mi aspettavo la resa di questi detersivi vabbè è una marca diciamo conosciuta che c'è da quando ero piccola però questa nuova linea non l'avevo mai provata ma presto ve ne parlo comunque ottimo prodotto sempre per quanto riguarda lavatrice l'additivo disinfettante quello che io utilizzo quando ci sono panni particolarmente sporchi o comunque che ne so i vestiti del lavoro di francesco che vuoi o non vuoi vengono a contatto con l'esterno lavorando all'aperto magari si siede qui cioè preferisco disinfettare o comunque le magliette che si utilizzano per andare a correre però io non vado a correre io non c'è problema per quello però comunque magari sudate le magliette sudate insomma questo è buono lo utilizzo particolarmente per queste cose qua oppure anche i vestiti dei bambini anche se prediligo il napisan scusate il napisan per i vestiti dei bambini comunque siamo lì poi sempre per lavatrice ho finito queste ma a gran fatica non mi piacciono io più che altro queste le avevo utilizzate quasi tutte per i sacchettini da fare da mettere nell'armadio che devo dire che hanno una resa veramente veramente importante cioè durano tantissimo almeno per quanto mi riguarda però dopo ho fatto un po di ricerche ho scoperto che comunque un po tossico mettere queste cose nell'armadio e quindi va mi sono fatta condizionare da questa cosa e allora non li ho più fatti però ho pensato ma comunque anche quelli che acquisti saranno tossici pure quelli no perché sempre roba chimica parliamo però vabbè l'importante è non esagerare con le cose comunque io con questi non mi trovo bene perline non ne comprerò più a meno che mi gira ancora di fare i sacchettini da mettere nel nell'armadio prendete dei sacchettini d'organza ci mettete dentro qualche pallina ma non tantissime altrimenti a meno che voi volete proprio un profumo intenso ci mettete dentro ma in inverno vi consiglio di mettere qualche chicco di riso che nessuno lo dice perché queste palline destinate a sciogliersi perché devono sciogliersi con l'umidità può essere che magari perdano un pochino se voi ci mettete qualche chicco di riso evitate questa cosa qua poi per la lavatrice uno dei miei top top preferiti che vabbè anche qui non mi soffermo più di tanto è il perlana uno dei miei preferiti io utilizzavo tantissimo anche quando avevo i bambini neonati lavavo i loro vestiti mie con questo vabbè è delicatissimo appunto perché è proprio indicato per i delicati quindi non è aggressivo rimane delicato anche sulla pelle perché mi sono sempre trovata benissimo sapete che io ho la pelle molto delicata forse più delicata di un bambino quindi per me questa è una garanzia lo utilizzo per i maglioncini ad esempio questi ma anche per le magliettine di cotone se dovete dargli una rinfrescata vabbè è un prodotto delicato se avete neonati io ve lo consiglio perché mi sono sempre trovata benissimo poi sempre a proposito di neonati ma comunque anche per per bambini più grandi però comunque io questo l'ho finito finalmente perché cioè finalmente l'ho usato tantissimo appunto quando avevo bambini più piccolini perché con le pappe con gli omogenizzati di frutta che sono tremendi tremendi da pulire qui intorno al collo magari un po di rigurgito c'è quelle macchie un po belle toste ho usato tantissimo questo col suo dosatore lo mettevo come pre lavaggio come pretrattamento scusate lo mettevo un pochino sulla macchia lasciavo agire dopo buttavo in lavatrice uscivano perfetti quindi questo in combo con per lana e per i miei bambini li ho usati veramente tanto poi vediamo se c'è ancora qualcosa per la lavatrice sì vabbè un'altra c'è gentile ok poi sì ho finito questo che è che è tutto bagnato smacchiatore della dexal che è questo sì buonino ha perso qualcosa perché tutto tutto sporco forse il detersivo acce perché azzurro vabbè comunque questo è uno smacchiatore della dexal sì vabbè è uno smacchiatore va bene l'ho usato però non è eccezionale mi trovo molto meglio con lo chanteclair quello di cui vi parlo sempre che per me resta uno dei migliori e poi 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 per quanto riguarda la lavatrice vabbè un altro un altro ace che è quello che perde che è tutto blu poi sempre per la lavatrice ho messo qui perché questo va nel cartone tutti i fogliettini vedete sono quattro scatole questi fogliettini qua che vi dico sempre sono buonissimi sono ai livelli di quelli di marca io li metto nella lavatrice quando faccio colorati scuri eccetera sono stupendi secondo me è passato un camion non so se avete sentito secondo me non bisogna spendere 3 4 euro per gli acchiappa quelli della grey per dire questi qua 99 centesimi stupendi poi questi questi qua che cosa c'è qui dentro altre cose a ecco ve li avevo conservati allora questo qua sempre dell'unico sono dei sacchettini profumo a biancheria devo dire che sono buonissimi cioè non si profuma biancheria ma hanno un profumo ragazzi vi faccio vedere bene la confezione sono dei sacchettini con dentro le perle quelle famose sono tipo quelle però se volete potete tagliarli metterli nei piccoli sacchettini nell'armadio lasciano un profumo stupendo o comunque questi si usano in lavatrice per un fresco bucato quindi al posto dell'ammorbidente hanno lo stesso lo stesso compito delle perline lì però queste hanno un profumo spettacolare però vabbè io non le uso sapete che io non uso ammorbidenti però comunque poi questi dell'orfea per me sono una garanzia buonissimi questa è la profumazione che ho di digarofono del magadascar buonissimi quando metto via che ne so questo è proprio dedicato alla lana quindi quando faccio i cambi stagioni che metto via maglioni coperte ci metto dentro un fogliettino di questo è stupendo ma comunque si possono mettere anche nei cassetti vedete sono nelle confezioni così vabbè questi sono finiti però profumano ancora ma vabbè comunque questi e poi basta ancora questi qua della fiatta colore poi finalmente ho finito alcuni prodotti questo mese mi sono imposta di finire dai detersivi che non mi piacevano che non mi piacciono e quindi finalmente li ho finiti e poi con questa scusa che qui c'era girava un po il virus per casa allora ho disinfettato un po più del normale senza esagerare perché non voglio più diventare matta però ho approfittato e ho utilizzato questo che non mi piace non mi è piaciuto per carità sarà un buon disinfettante perché è anche presidio medico chirurgico quindi ma no non c'è scritto presidio medico ah sì 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 quindi multi active bagno disinfettante per uso ambientale pronto all'uso della dexal sapete che la dexal è un prodotto dell'eurospin questo qua ce l'ho da una vita ragazzi non so nemmeno se esiste ancora però l'ho utilizzato per il bagno per le superfici del bagno ma volendo si può utilizzare anche per altre superfici ma io l'ho usato per il bagno e niente non mi piace l'odore lo trovo troppo pungente sapete che a me danno fastidio i detersivi troppo aggressivi e questo lo considero un detersivo troppo aggressivo per me è bocciato non lo compro più e basta un altro che ho fatto fatica a finire ma solo perché se io poi trovo un prodotto migliore giustamente non guardo più quelli che mi piacciono così e così però l'ho voluto finire perché era giusto me ne mancava un pochino è lo sgrassatore questo della winnis ma il profumo non mi piace nonostante siano prodotti ottimi perché sono ecologici con poco nickel con tutte queste sostanze allergiche ne ho usato come sgrassatore ma più che altro per pulire la lavatrice nella lavanderia nel lavandino queste cose qua perché non è potentissimo torno sempre lì per me lo Chanteclair resta il migliore infatti di sgrassatori non ne vorrei comprare più perché vuoi o non vuoi ritorno sempre sui miei preferiti quindi basta ho finito anche il mio preferito in assoluto lui è veramente il mio preferito in assoluto che non manca mai nel piano sotto nel piano sopra ce l'ho sempre è una garanzia io ve lo straconsiglio è lui il evergreen dei detersivi è mastro lindo questo in gel neanche spray perché spray secondo me non è la stessa cosa per me per il bagno va utilizzato il detergente in gel che è questo uno dei migliori mi piace tantissimo ad esempio lo smack quello blu mi trovo benissimo anche con quello ma con questo ragazzi vi devo fare presto il video dove pulisco il bagno perché ho trovato un prodotto che alla che utilizzo alla fine e fa un bagno profumatissimo igienizzato pulitissimo lo voglio condividere con voi presto lo faccio sperando che però comunque questo ve lo faccio vedere quello senza candeggina sapete che io odio la candeggina poi sempre per la casa ho finito c'è dentro ancora un pezzettino ma non si sente più niente questi che io c'è continuo sempre a comprare ma profumano due giorni poi non si sente più niente a meno che mi abituo io boh però non so neanche di che marca fosse forse della glad perché nell'ultimo svuota la spesa che ho fatto quello dell'acqua e sapone ho comprato quello delle mursi alla lavanda testavo che mi desse più soddisfazione ha profumato due giorni tantissimo ero super esaltata volevo dirvelo ma poi si è perso completamente anche lui poi per finire ho anche il microfono adesso ragazzi sono super attrezzata cioè non scherziamo spero che l'audio si senta meglio con questo microfono perché sto sperimentando sapete che io non sono molto di queste cose tecnologica e quindi la qualità dei miei video non è stata finora delle migliori quindi cerco di migliorarla un pochino comunque cura del corpo e del viso il mio tonico preferito mi piace tantissimo o io non so mi piace troppo nonostante a me il profumo di rosa non piace in generale questo qui mi piace tantissimo mi dà serenità quando lo metto nel frattempo ho tutte le mani bianche perché qualche detersivo con l'ossigeno mi sta aspettato un attimo eccomi per finire aspetta uso la carta perché si è rovesciato qualcosa e niente per finire la mia solita crema ve ne ho parlato tante volte per chi ha la pelle molto secca a me questa ha aiutato tantissimo infatti ho una pelle praticamente normale super morbida adesso ma ci vuole costanza ovviamente venivo da un periodo con una pelle secchissima le gravidanze mi avevano sballato un po tutto lo stress e niente io ho trovato questa che mi aveva consigliato il dermatologo ma prima di trovare questa non so le creme che ho provato cioè ho speso un sacco per tutto questo problema che avevo in creme e cremine alla fine questa è stata stupenda sarà già la decima confezione che finisco ve la faccio vedere se c'è qualcuno che magari soffre di pelle secca è una crema base quindi non ha profumo questa è adatta anche eventualmente se dovete fare anche se avete dovete fare una cura cortisonica si mischia insieme almeno io all'inizio avevo fatto così si mischia insieme proprio perché il cortisono ha bisogno anche di idratazione oppure avevo fatto un periodo ci mettevo le goccine di t3 se vi piace il profumo perché è un po particolare il profumo del t3 però un disinfettante naturale quindi mi aveva aiutato a appunto disinfettare la pelle diciamo così ma comunque a tenere lontano che ne so i batteri nel mio cervello però comunque potete metterci anche altre profumazioni potete crearvi la crema che vi piace e niente ve la faccio rivedere se volete fare lo screenshot nel caso qualcuno soffra di dermatite piuttosto che di pelle secchissima ve la consiglio adesso ne sto provando un'altra che mi sto trovando altrettanto bene appena la finisco ve ne parlerò comunque per oggi è tutto questi sono i miei prodotti finiti del mese anche se in realtà avevo un altro sacchetto che avevo dentro il detersivo dei piatti ma è sparito probabilmente l'ho buttato senza accorgermi ma niente c'era il mio solito detersivo dei piatti il nelson quello alburo di karité la scatola delle paillette bravo non mi ricordo se ve l'avevo fatte vedere nel o le ho buttate però vabbè comunque ragazze io vi saluto vi mando un bacione se vi fa piacere lasciatemi un like al canale per supportarlo e per supportarmi e per supportarmi niente un bacione ci vediamo prestissimo ciao